Sai che il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Anche la Liguria dice basta e lo fa con 25 novembre sempre. 14 ore di dibattiti, convegni, cinema, musica e teatro. Appuntamento alle officine Solimano di Savona. Vieni oppure seguici in diretta web e parla con noi.